Guardate questa immagine, ci sarebbe da non crederci. Domenica scorsa un bambino ha rubato la poltrona al Papa e il Papa se l'è lasciata rubare. Una foto incredibile, guardatela un po'. Non solo, si è lasciato poi coccolare e ha coccolato il padre, il bambino sfuggito al controllo dei genitori in piazza San Pietro. Il tutto continuando a tenere il suo discorso sulla famiglia. Il bambino ha rotto il cordone dei controlli e si è presentato fra lo stupore generale davanti al Papa. Lo ha guardato, gli ha girato intorno, si è persino seduto sulla sua poltrona. Poi gli è andato a fianco, aggrappandosi ad una gamba del pontefice che lo ha accarezzato e ha continuato ad accarezzarlo come fa un padre con un figlio, come fa un nonno con un nipote. Nel frattempo in piazza San Pietro echeggiavano le parole di Papa Francesco sulla indissolubilità del matrimonio, sulla centralità del vincolo familiare, sull'amore che deve cementare le famiglie. E non poteva esserci esempio più palpabile di amore paterno di quello che involontariamente il Papa mostrava dal vivo, in diretta, alle famiglie riunite nella piazza, come giocando con il piccolo intruso. Se c'è una cosa che rende questo Papa convincente è la facilità del suo linguaggio, che non è fatto solo di parole, ma anche di gesti semplici, naturali, come quel buonasera con il quale si presentò al mondo. Quella di domenica è un'altra pagina di storia della Chiesa da incorniciare. Il Papa che fa sedere un bambino sulla sua poltrona. Il mondo, cioè, non appartiene ai potenti, ma ai buoni. Grazie. 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 Grazie.